Centri di danza possono restare aperti? Domanda. Nell'elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica? I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura. Ora, anche le classi di danza classica sono pertanto sospese, ma io in tutto ciò rimango sempre un po' dubbioso perché i centri di danza possono restare aperti? Nell'elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale e poi dopo mi dice che dobbiamo stare chiusi. Cosa vuol dire? Aiutatemi, non sono un mago della giurisprudenza, però aiutatemi a capire questa cosa perché io non so cosa dire. Questo qui mi sembra un'eterna supercazzola, non si capisce assolutamente niente di quello che viene scritto, viene detto. Non se ne può più, siamo amareggiati, stanchi, non faccio distinzioni, scuole di danza, palestra, siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali e tutti noi ci siamo prodigati nel cercare di fare le cose come si devono fare. Abbiamo speso tantissimi soldi per essere in regola e grazie anche a questo noi nei nostri centri, che siano palestre, siano scuole di danza e via dicendo, abbiamo fatto di tutto per rendere il tutto a norma. Riceviamo continuamente telefonate dai nostri allievi, clienti, genitori di bambini a cui abbiamo dato una speranza, una speranza di riprendere le cose. In questi ultimi otto mesi ci siamo prodigati nel cercare di risolvere la questione. Abbiamo avuto anche l'aiuto del comune, abbiamo avuto un'attenso struttura, abbiamo ridato un sogno ai bambini, che inizialmente quando arrivavano nelle lezioni che abbiamo organizzato con tutti i centri di danza di Pesaro, voi dovevate vedere le facce dei nostri bambini, titubanti, ammareggiati, ma dopo un po' siamo riusciti a risalire, a ricomportarci nel modo adeguato e dare vita a questo benessere, perché quello che creiamo noi è un benessere, un benessere che va tutelato, tutelato, in tutti i modi. Siamo coscienti che siamo in una situazione non molto bella, però noi dei centri benessere, delle scuole di danza, dell'arte, dello sport, di tutto questo movimento, abbiamo fatto di tutto per cercare di venirne fuori. Ci siamo anche riusciti perché non ci sono problematiche nelle nostre scuole e nei nostri centri, per cui non vedo dove sia il problema, ok? Non vedo dove sia il problema e sinceramente siamo tutti molto, molto amareggiati e delusi, delusi di tutto questo. Faremo di tutto per cercare di venirne fuori, non molleremo, non molleremo, cercheremo di andare avanti in qualche modo, rispettando le regole, perché è giusto rispettare, ma noi le abbiamo rispettate in tutti i modi e non ci sono casi.